ciao a tutti ragazzi sono francesco e mi ritrovo in questo nuovo video nel server magic ormai nella modalità star prison in questo video ho pensato di fare un paio di cose principalmente di aprire tutte queste reti non le unite o se utriette sia us3 us qui sono stati in pratica givate probabilmente quello che ho capito che ho detto però c'erano stati problemi anche per inserire il nucleo probabilmente però può essere molto givato un po di chi questo caso 3 ultrito 8 explosive crit e 1 diamond crit in questo caso se lo metteremo un po tutto fatto insieme andremo allo spawner world to the trades direttamente all'aprire tutta questa trade vediamo un po cosa c'è questa diamond trade un altro probabilmente continuiamo anche con questo wood trade ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.